lo sapevate che un esercizio al giorno levi il prof di torno salve ragazzi supponiamo che il vostro prof vi chiede di scrivere la formula del borato acido di alluminio come procede borato l'acido di alluminio c'è un metallo o non metallo c'è l'idrogeno quindi mi viene da pensare che si tratta di un sale acido e allora qual è la struttura di un sale acido c'è il metallo l'alluminio lo spiego del primo poi un sale acido cimento l'idrogeno tra il metallo e non metallo il borgo in questo caso e l'ossigeno se vuoi continuare a vedere il video clicca il link qui sotto grazie grazie